Buongiorno e benvenuti a questa è la segna stampa di oggi lunedì 1 aprile. Vi ricordo che stasera noi avremo Quarta Repubblica, non potete mancare. Il tema di Quarta Repubblica oggi, molti di voi gli sta sulle balle, è chi vuole uccidere Salvini. Parte da una provocazione fatta dal sito di Michele Santoro e da una provocazione fatta dal vignettista Vauro. Parte proprio da un servizio di Quarta Repubblica della settimana scorsa. Quindi tutti contro Salvini. Salvini è diventato l'uomo nero. Ne parleremo questa sera. Buongiorno a Patrizia che vedo che per prima ci sta guardando. Sui giornali di oggi ragazzi c'è veramente Gerardo, buonasera, buongiorno anche a te. C'è poca roba sui giornali di oggi. La politica è una rottura di balle. Se io avessi un giornale oggi farei mezza paginetta con una specie di piccolo punto spiegando che Conte si è visto con Salvini, si sono visti a Firenze e nulla di nuovo è accaduto sotto il sole. Perché i retroscena dicono tutto, il contrario di tutto, che hanno fatto pace, che non hanno fatto pace, che si sono rasserenati, che Salvini ha detto, mi sembra, qui comando io per Repubblica. E questo è il tema dell'incontro. Poi vedi le interviste di Spatafora che dice che Salvini è torto, torto, che invece Conte non dà più a Salvini. Ragazzi è un gran casino. Ovviamente i retroscena devono fare il loro mestiere, però io li conterrei in poche righe. Cioè gran casino sotto il cielo del governo giallo-verde con cui ci sono Movimento 5 Stelle e Lega che in vista delle elezioni tra pochi giorni e soprattutto avendo visto come sono andate le regionali nei mesi scorsi continuano a fare grande polemica. L'unica forse polemica, buongiorno Rita, che vedo collegarsi ora, è veramente forte e continua a essere quella del ministro Fontana che dice la sua sulle adozioni, che era l'altro tema grande di dibattito dei giorni scorsi. Insomma è colpa di Fontana o non è colpa di Fontana se queste adozioni in Italia vanno a rilento? E ancora le adozioni vanno a rilento, andiamo per ordine. Le adozioni, buongiorno a Monica, le adozioni in Italia secondo Fontana vanno a rilento e secondo Fontana la delega è vero che ce l'ha lui ma è stato fatto un comitato di tre persone peraltro previsto per le adozioni che non risponde a lui ma i suoi membri sono stati nominati da Conte. Quindi dice bravo avvocata, uno di voi mi sfotte su avvocata ma in realtà l'ho letto sui giornali e quindi mi è venuto questo tic di chiamarla avvocata, una cosa incomprensibile. Mi do uno schiaffo perché ho detto avvocata, un altro schiaffo perché l'ho pensato. L'altra cosa fondamentale di Fontana è che oggi è arrivata l'intervista di una di questi tre membri del comitato per le adozioni italiane che dice che noi non andiamo per niente a rilento, si tratta di una questione molto delicata, non possiamo farci prendere a dire stupidaggi. Intervista bombastica come tutte le interviste che fa Capezzone a Paragone, l'uomo che dovrebbe diventare il presidente della commissione, seconda inutile commissione sulle banche italiane, però ovviamente a voi vi piace la commissione sulle banche, così troviamo questi banchieri cattivi a cui voi leccate il sedere quando andate in filiale ma a cui vi sfogate come leoni da tastiera perché effettivamente ci sono dei banchieri orrendi che non pagano mai il prezzo della loro incapacità e pontificano, ma da questo a distruggere il sistema bancario italiano in toto mi sembra una follia. Ma comunque l'intervista di Paragone è interessante per due aspetti. Il primo aspetto è quando ci spiega che Giorgetti, cioè fino a prova contraria il suo ex compagno di partito perché Paragone, non ve lo dimenticate, era un leghista, poi è diventato un grillino, beh Giorgetti, sottosegretario della presidenza del consiglio in quota lega, secondo lui troppo legato con il vecchio sistema. Ecco, insomma, è la solita storia, chi è più puro dei puri deve essere purato. Lo dice Paragone, troppo legato Giorgetti al vecchio sistema, è una cosa fantastica. Ma la cosa più ridicola, perché nei dettagli si leggono, secondo me, le grandi personalità politiche, si parva l'ICET, sapete qual è? È che quando Capezzoni dice, beh, stai difendendo un po' troppo la Raggi su Roma, non funzionano tre fermate della metropolitana chiuse, delinquenziale atteggiamento di un'amministrazione assurda, perché dovrebbe stare col culo fisso sopra quelle stazioni per farle riaprire in un paese normale, tre stazioni ferme nella centrale Roma. Già non funziona la metropolitana praticamente per niente, ma sono pure tutte e tre ferme. Beh, sapete che cosa dice Paragone? Paragone dice, eh, la stampa però non racconta come funziona la metropolitana di Milano. Ah, davvero? Perché ci sono le frenate brusche nella metropolitana di Milano, a parte il fatto che tutti quanti i giornali milanesi si sono occupati dello strano giallo, Corriere della Sera, Giornale, tante altre, si sono occupate, Chiara lo sa bene che vedo che si collega ora, che scrive sul giornale, tante di queste inchieste sono state fatte su queste frenate brusche della metropolitana di Milano che sono oltre che un disagio provocano ovviamente dei feriti, ma quelle frenate brusche avvengono anche a Roma, avvengono in tutte le metropolitane, forse a Milano in maniera esagerata, ma vogliamo mettere in paragone le frenate brusche di una situazione metropolitana straordinaria come quella di Milano con questa inefficienza di merda che c'è nella metropolitana di Roma? Ecco, le vogliamo paragone mettere insieme? No, perché se tu sei proprio il paladino dei cittadini a me mi sembri soltanto il paladino del Movimento 5 Stelle, il che va anche bene, ma insomma direi come diresti tu, fai parte del vecchio sistema che difende il partito indipendentemente da quello che fa, anche la Raggi. Le foto di Bezos sono una storia straordinaria, oggi soltanto il Corriere della Sera le tiene in prima pagina perché Bezos faceva delle foto intime col sigalo, col non sigalo, con la sua nuova fidanzata mentre era sposato con la vecchia fidanzata, si parla di un signore che ha un patrimonio di 850 miliardi di... 850 milioni? 850 miliardi? Ho detto una minchiata, non me lo ricordo, comunque è l'uomo più ricco del mondo. Beh, chi è che avrebbe hackerato il suo telefono e aver creato tutto questo casino sarebbero i servizi segreti dell'Arabia Saudita perché sono gli stessi che avrebbero ucciso Cassoggi, giornalista del Washington Post, giornale comprato da Bezos, sarebbero stati proprio i servizi segreti dell'Arabia Saudita ad ammazzarlo, Cassoggi è un giornalista del Washington Post, Bezos è il proprietario e avrebbero voluto ricattarlo, cosa che Bezos non si è premurato di essersi... che non ha subito. Bravo Bezos, ma soprattutto non mi sembra il complottone di Trump qua, mi sembra più un complottone di straordinaria politica internazionale. E riguardo all'economia mi sono dimenticato di raccontarvi una cosa, perché oggi la stampa apre a tutta pagina il primo pezzo, l'apertura della stampa, conflitto di interessi di Tria, che ieri ha detto che la crescita di questo paese sarà pari a zero, doveva essere uno e mezzo nel vecchio DEF, è diventato l'uno nella finanziaria, adesso diventa zero nell'aggiornamento del DEF, insomma non sanno fare proprio bene le provisioni, come tutti i governi anche questo. Ma la cosa straordinaria, basta tasse dice qualcuno, la cosa straordinaria è che avrebbe Tria, secondo la stampa, preso questa signora Burgo all'interno dei suoi consulenti e la signora Burgo avrebbe preso il figliastro di Tria in una sua società privata. Io non so se sia vero, ne parlano i giornali e comunque questa è una questione che scalderà gli animi. Mi sembra persona per bene Tria, non so come sia finito in questa storiaccia. Uno dei casi per cui capisci perché i giornali italiani non ti fanno capire nulla è che oggi raccontano a pagina intera due cose di politica estera. La prima è che Erdogan perde le elezioni in alcune città chiave della Turchia. Ho letto il reportaggio del Corriere della Sera e della Repubblica e una cosa vi volevo chiedere, ma il sindaco nuovo di Ancara, che non è del partito di Erdogan, che loro spesso dicono il partito conservatore, musulmano, religioso, benissimo, bravi. Ma mi spiegate cos'è più liberale? Ma quello che mi interessa non è chi ha vinto Ancara, mi interessa capire se il sultano è stato sconfitto dai laici, se è stato sconfitto dai liberali, se è stato sconfitto dalla sinistra, se è stato sconfitto dai comunisti. Che me frega di quel nome? Che ne so? Siamo tutti esperti della Turchia? Beh, no, non siamo tutti esperti della Turchia. Magari se nel vostro pezzo mi spiegate se gli oppositori che hanno vinto in alcune città sono oppositori, diciamo, laici o non laici, il che non è indifferente per la Turchia. O no? Questa è una piccola, non mi permetto di dare lezioni di giornalismo a nessuno, ma sul mio sito io pretenderei dai miei giornalisti che dicessero una cosa di questo tipo. Seconda cosa, ha vinto l'avvocata! Non si dice avvocato, l'avvocato biondo in Slovacchia. E tutti i giornali contenti, si rompe il patto di Visegrad, è finita l'epoca dei sovranisti, il non detto inizia, la fine dei sovranisti. Perfetto, fantastico, dieci righe oggi del tempo, dieci righe non di più del tempo che ci dicono che la Slovacchia è meno grande del Lazio, 5 milioni di persone, quindi più o meno vale una regione italiana e soprattutto il Presidente della Repubblica, cioè questo avvocato che è ditato Presidente della Repubblica, non ha alcun potere, un po' come in Austria. Adesso a me va bene tutto quanto, probabilmente ci ha torto il tempo e ci hanno ragione tutti i grandi giornali che ci spiegano la vittoria contro i sovranisti e questo forse è il primo segnale. Però mettere le cose nel giusto contesto non sarebbe male. È stato beccato perché si è costituito, altro che beccato, un ragazzo di origine marocchina che ha accoltellato Stefano alla gola cinque settimane fa a Torino. Una storia incredibile di cronaca, ha detto che mi aveva guardato male, io volevo, io vivo un brutto momento, volevo che lo vivesse anche lui. Una storia incredibile di cronaca che vi segnalo. Due milioni sono, secondo il Corriere della Sera, un pezzo di Fubini, gli apparecchi con cui si vedono le partite, i grandi finali, le attività sportive criptate che sono, diciamo, smanettate da sistemi diversi. Quindi sono 4 milioni virgola 6 gli italiani che sono un po' furbetti e se le guardano come gli pare le partite. Quello che Fubini dice, ricordatevi che dietro ognuno di questi apparecchi ci sono delle mafie. Il flop della tassa su Airbnb, che non è un flop, oggi a due giorni di distanza, ovviamente non pretendo che vedano la nostra segna stampa, però alle 12 sul sito nicolaporro.it, Marco che ci ascolta, alle 12 sul sito nicolaporro.it, troverete tutte le, come si crea una fake news fatta dal Corriere, da Repubblica, dal Lanza e dopo due giorni dal fatto. E la fake news è che Airbnb e queste società, dei contratti di affitto breve, hanno pagato soltanto, hanno pagato un imponibile solo di 41 milioni nel 2017. È falso, è totalmente falso. I giornali lo scrivono, ma è falso. E questo non toglie, rompete le balle a internet, alla rete, a Instagram, a Facebook, alla zuppa di porro, a quelli che volete, eccetera, e non vi rendete conto voi giornali che siete dei morti che camminano, ma con la prosopopea di fare dei titoli, il flop della tassa su Airbnb. È semplicemente falso. Alle 12 sul mio sito vedrete per tabulas per quale motivo questo dato è falso. Bastava, tra l'altro, sentire al telefono la confedilizia che verrebbe spiegato il motivo per il quale è falso. Fantastica l'idea a proposito di soldi nostri, 45 mila euro, sì, la tassa su Airbnb esiste, il 4%, non è questo appunto, non è la tassa su Airbnb, cioè è la tassa cedolare secca su coloro che affittano i propri appartamenti Airbnb. Si sostiene che questa cedolare secca abbia colpito un imponibile solo di 41 milioni di euro. È totalmente falso. Alle 12 se avete voglia lo vedete sul mio sito. La crisi dell'uomo, crimi che si occupa dell'editoria, si occupa anche dei sondaggi. 45 mila euro per fare in tre mesi tutti i sondaggi sul gradimento del governo. Ogni politico è simile a modo suo. Ultima cosa, ne parla il messaggero, il nuovo codice della strada, tra un po' Fabrizio ti dirò chi è ospite questa sera, il nuovo codice della strada, i 125 potranno andare finalmente in tangenziale, quindi con la mia vespetta potranno andare in tangenziale e però non ci aumentano la velocità, il limite di velocità a 150 km all'ora su quelle enormi autostrade a quattro corsie, penso alla Milano o alla Brebemi o alla Milano-Brescia, quando sono vuote fateci andare a 150, ma questo non è permesso dal nuovo codice della strada. Direi che questa sera il tema è quello, volete tutti uccidere Salvini? Salvini è l'uomo nero, sette modi per uccidere Salvini, come ha detto Vauro sul sito di Michele Santoro, ci sarà ovviamente il vostro odiato Vauro, ma ci saranno a difendere una gradevolezza della politica, spero, e una ragionevolezza della politica per cui Salvini non è l'uomo nero, Mario Giordano, ci saranno Alessandro Sallusti e ci sarà poi Giorgia Meloni con la quale faremo un'intervista insieme a Sanzonetti sulla legittima difesa, sul garantismo e su tante cose che come sapete a quarto grado. Dario fu magari, no Mauro no, non ce la faccio! Vabbè, Renzo dice stasera dottor Nicola speriamo in bene, però in bici in autostrada ci si può andare? No, non penso, ma no, 180 meglio, bene, ci vediamo stasera, Anna Graziella, sì sicuramente. Guido sei arrivato ora, purtroppo noi abbiamo finito ora la nostra zuppa, vi ricordo questa sera, oggi pomeriggio, anzi fra poco, a mezzogiorno, manca pochissimo sul mio sito, come i grandi giornaloni creano una fake news, sempre sulle tasse. Ciao!